A Rovigo si cambia, si passa alla raccolta porta a porta. A Rovigo si cambia, si passa alla raccolta. A Rovigo si cambia, si passa alla raccolta. A Rovigo si cambia, si passa alla raccolta porta a porta, perché differenziare bene i rifiuti fa bene a noi e all'ambiente. Eco Ambiente chiede di metterci attenzione nel differenziare.